Emma Marrone sarà uno dei giudici di X Factor 14 e svella la reazione di Maria De Filippi di fronte alla notizia. La cantante è arrivata a successo grazie ad amici molto legata alla moglie di Maurizio Costanzo, che l'ha vista crescere non solo professionalmente e ha sempre creduto in lei. La notizia era nell'aria, ma la conferma è arrivata direttamente da Alessandro Cattelan, che nell'ultima puntata del suo show EPCC Live ha presentato al pubblico la giuria del Talent Sky. Accanto a Emma ci saranno Manuel Agnelli, Mika e il rapper Hal Raton. Saranno i giudici a scegliere tre concorrenti da portare sino ai live dopo diverse selezioni, partendo dalle audizioni fino ai Bootcamp e Home Visit. La cantante è apparsa da subito molto emozionata. Ho un atteggiamento super positivo, ha detto, nonostante il momento complicato e difficile. Abbiamo la possibilità di fare questo lavoro meraviglioso, sono contenta di fare questa avventura. Sono contenta anche degli altri giudici. Emma ha anche risposto alla domanda che tutti si sono fatti dopo aver scoperto che sarà giudice di X Factor. Come ha reagito Maria De Filippi? Lei era molto contenta, ha ammesso. E' orgogliosissima perché comunque mi è scoperta lei, ha visto tutta la mia strada. Le ho detto che avrei fatto X Factor e ho visto veramente l'orgoglio nei suoi occhi. La marrone è già stata giudice di amici in passato, ma X Factor 14 per le rappresenta una nuova e grandissima sfida. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un like di supporto.